Riappre nel centro di Napoli, rinnovato al termine di due anni di lavori, il centro di supporto e assistenza agli immigrati di Vico San Nicola al Nilo, uno spazio di circa 700 metri quadrati al terzo piano di un condominio gestito dal comune, che tornerà ad ospitare la scuola di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio. Riapriamo la nostra scuola nel centro antico della città, è una porta aperta per tutti, per gli immigrati, per i profughi, ma anche per tanti napoletani che vogliono concretamente aiutare nell'accoglienza e nell'integrazione. Solo l'anno scorso la comunità ha accolto circa 1100 immigrati, puntando sull'alfabetizzazione sociale e linguistica alla base dei percorsi di integrazione. All'attività scolastica si affiancano poi una serie di servizi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro. Riteniamo che la conoscenza, l'apprendimento della lingua sia uno strumento fondamentale, sia la chiave che consenta di entrare nella società, nella società italiana e potersi integrare in maniera soddisfacente. Vengono spese delle risorse pubbliche di fondi europei del PON Sicurezza nel miglior modo possibile, cioè la sicurezza si fa con l'integrazione, con l'accoglienza, è una bella pagina che lo fa insieme il comune con la comunità di Sant'Egidio, qui nel centro storico di Napoli, in collaborazione col Ministero dell'Interno, a scuola gratuita in lingua italiana, si daranno anche pasti per i poveri, è una bellissima pagina di accoglienza, di solidarietà e di diritti che noi vogliamo affermare nella nostra Napoli. La riqualificazione del terzo piano dell'immobile, che è affidato e incomodato d'uso gratuito alla comunità di Sant'Egidio, è stata finanziata dal Ministero dell'Interno ed ha consentito l'ampliamento della scuola, incrementando del 60% il numero degli iscritti. I corsi di lingua italiana si terranno fino a maggio, da lunedì al giovedì ed anche la domenica. Questa scuola risale a 26 anni fa, è una scuola del tutto gratuita, nessuno paga e nessuno è retribuito per quello che fa, ci si confonde tra chi aiuta e chi è aiutato in un grande abbraccio di solidarietà, di amicizia, di umanità. Il progetto prevede l'allestimento di una cucina che consentirà ai volontari della comunità la preparazione di pasti da distribuire agli stranieri senza fissa dimora.